ti ha fuori le armi è il mio compagno oh ma lo spara si si ah qua non faccio i stronzi ahia si io qua non arrivi vieni qua occhio che ti spara no no ha finito la munizione eh? eh si guarda che cade oh no ho finito amato poi in ciao ti vedo la occhia da me adesso aspetta si qui ci hanno i primaldi infilati nel culo no ah c'è devi raccogliere le urna urna ah ah in solito nelle urna ci sono delle cose interessanti del loro beh buttalo via ok spostiamo un cadavere come? che ne ho premuto A no ma adesso sto dicendo A ah infatti è impossibile un posto più comodo non c'era un posto più comodo hai ucciso ora libera ok dove l'articolo scusa 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 cosa? beh è un posto più comodo ok c'è un super bug il primo bug di affaro uno screen c'è una turca strana eh oppure no sono una turca di me ok ok, io mi chiedo ho preso l'artiglio sì sì spero non ci voglio ritornare quindi mi dissi che ho l'altro pezzo una sì ah no l'amico tamtudo all'ultimo uffarli no oltre a vivere sono belle spalle ma e vado troppo poco vabbè non so far essere molto troppo salviamo potresti beccare l'uomo il corso di verza a mezz'ora o quasi 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 nuovo livello attraverso il te nuovo livello ma st scuola magica super magica sempre distruzione se c'è colpisciato assiccio quello che io adesso con la destra e quella che tutti i miei appoggiati sicuro per accogliere più pochino non si calzasse o cazzo percorso perannan brutto signori ma mi ha fatto un colpo percorso questo è davvero non c'è la spada ricorda non dormerò è ma che domani il tifo spuntasse su cadavere che ce l'avevo intrigata ma dai non è neanche vestito non potevano ma se non fa se è infatti il suo posto in alto che più forte anche se c'è slanza dove la città si trova pesando più in grado se tu vuoi brutto ah no foto è solo una trafola chiudo gli occhi e è esatto è andato è andato è andato è andato mi sa mi sa mi sa ho fatto un action c'è fatto un atto che sei andato guarda che furbo si bello te mori prima occhio che c'è uno in fondo eh cosa devo fare oh di che mi carvi esaltati guarda guarda c'è cumulo no 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 morge di braù aspettati di sesso dai dai no di cosa si chiamano così ma però ma sono tutti purtroppo drog vabbè drog 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 vabbè non so per discutere ci sono piuttosto ma che mi spacco legame correndo sulla rossa bandanta tata 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 Grazie.